Il palazzetto dello sport Cosa riguarda in particolar modo questa notizia? Riguarda il servizio di riattivazione della piscina comunale. Come sappiamo all'interno del palazzetto dello sport, oltre ad esserci la struttura polivalente, abbiamo anche la piscina comunale che è uno dei beni preziosi che Favara e che deve quindi mantenere sempre attiva al fine di poter quindi permettere non soltanto ai giovani ma anche agli sportivi di poter usufruire. Infatti qualche giorno fa è arrivata all'interno della nostra redazione una lamentela, ovvero la nostra nuotatrice Nadine Cimino è venuta a parlarci dicendoci che effettivamente non era possibile più allenarsi all'interno della piscina comunale di Favara. Cosa comportava questo? Comportava inevitabilmente allenarsi nella piscina del paese vicino, Aragona, e che questo andava comunque a ledere un po' quella che era la sua attività da sportiva. Ricordiamo che Nadine è una delle nuotatrici più promettenti, nonché di Favara, quindi uno dei nostri orgogli cittadini. Infatti lamentando questo, ovvero la chiusura della struttura della piscina comunale, non solo era costretta ad andare ad Aragona ad allenarsi, ma questo andava anche a creare dei disturbi nella sua attività di studentessa e quindi non riusciva più a mitigare, a mettere insieme tutte le sue attività. E questo incentivava anche e creava più che altro problemi anche alla sua resa sportiva. Siamo appunto, come adesso il nostro Stefano riesce a inquadrare, all'interno del palazzetto dello sport. Dicevamo appunto che la vice sindaco Rossella Carlino stamattina ha diramato nelle nostre redazioni, nonché le redazioni delle varie testate giornalistiche, la notizia che non solo è stata ripristinata alla luce, ma che a breve verranno riempite le vasche, quindi la piscina comunale sarà di nuovo usufruibile da parte di tutti. Vi diamo una piccola notizia. Noi la settimana scorsa siamo venuti qui, ci troviamo all'uscita quasi di Favara per arrivare al palazzetto dello sport. Arrivati qui abbiamo trovato i cangelli completamente sbarrati, perché avevamo avuto appunto delle segnalazioni da parte dei cittadini virtuosi, che sono tantissimi a Favara, dove appunto ci dicevano che il palazzetto dello sport era completamente al buio, ma più che altro che vi era anche il rischio che questo venisse depredato, così come è capitato se pensiamo per esempio alla scuola Amendola di Via De Mille. Quindi proprio per questo siamo adesso molto contenti di darvi questa notizia, quindi comunicarvi che il palazzetto dello sport ha di nuovo la luce e l'elettricità e che quindi a breve sarà ripristinato il servizio della piscina comunale. A breve avremo l'intervista all'assessore Rossella Carlino. Come vi abbiamo anticipato nell'introduzione abbiamo qui con noi l'assessore nonché vice sindaco Rossella Carlino, che si è spesa fin da subito all'inizio del suo mandato per la riapertura della piscina comunale. Assessore, abbiamo la possibilità di riavere la piscina comunale di nuovo attiva? Sì, assolutamente, hai detto bene. Fin dall'inizio del mio mandato uno dei miei primi obiettivi è stato appunto quello di riattivare questo servizio importante per la cittadinanza, anche perché godiamo di una struttura che ce ne sono davvero poche in provincia di Agrigento. La piscina comunale è magnifica e quindi dobbiamo cercare di mantenerla tale, questa struttura. Ci sono stati degli intoppi dopo la riapertura, perché abbiamo fatto la riapertura l'anno scorso ad aprile ed è andato tutto benissimo, nel senso che, anzi, il fatto che abbiamo riaperto a metà anno, pensavamo di non avere tantissimi ingressi. Invece non è stato così, ma tantissimi fruitori e tantissimi bambini che hanno iniziato i corsi di nuoto e questo ci ha entusiasmati nel voler continuare in questo arduo compito. Ricordiamo che, essendo in discesso finanziario, questo è un servizio a domanda individuale, pertanto affinché possa essere fatto all'interno di un ente in discesso deve essere a costo zero. Quindi ci siamo riusciti con il contratto di pattenariato di cui gode il Comune di Favara attraverso l'Aesco, a Laimo, e abbiamo riaperto quindi il fiore all'occhiello di Favara. Questa piscina ha avuto un intoppo per quanto riguarda la corrente elettrica, perché ha una cabina a monte della struttura, dove appunto porta l'energia elettrica non solo all'illuminazione pubblica, ma anche all'interno della struttura della piscina comunale. C'è stato appunto un guasto e sistemare questo guasto oggi per noi è importante. Di fatti la sistemazione è stata fatta ieri da una squadra di tecnici che appunto sono specializzati nel settore perché si tratta di alta tensione e dopo questa sistemazione quindi siamo pronti per riaprire, pronti per riempire quindi le vasche e per fare entrare di nuovo la cittadinanza e tutti i cittadini dei paesi limitrofi a godere di questo magnifico servizio e di questo sport eccellente. Ricordiamo che Favara inoltre ha moltissimi talenti nel campo del nuoto, una tra tutte è appunto Nadine Cimino e che vogliamo proprio accompagnare in questo sport e nella loro crescita. Quindi un'ottima notizia quella della riapertura della piscina comunale. Vogliamo anche dire ai nostri telespettatori più o meno le tempistiche? Sì, il tempo di riempire appunto le vasche quindi adesso contatteremo sia Girgenti Acqua appunto per farci arrivare l'acqua che naturalmente la ditta che dovrà ottemperare quello che riguarda la riattivazione dei motori, il riscaldamento dell'acqua e dell'aria. Vogliamo anche ricordare che all'interno della piscina comunale ci sono ben 12 impiegati che in maniera costante, sempre con grande energia, lavorano e mantengono la struttura comunque aperta. Assolutamente sì, dobbiamo tantissimo i nostri impiegati comunali che reggono questo servizio, anche il nostro responsabile Carmelo Ferraro, che appunto hanno svolto con tanta dedizione e con tanto amore questo servizio in maniera accurata per la cittadinanza. Il fatto quindi di tornarsi come non avviene in altri uffici, mattina, pomeriggio e anche a volte a tarda e sera gliene fa onore, quindi anche è merito loro il fatto che la piscina ha potuto riaprire. Bene, quindi questa è un'ottima notizia che è giusto condividere con l'intera città di Favara. A breve la piscina comunale riavrà quindi l'acqua e di conseguenza sarà aperta e attiva per creare nuovi abbonamenti. Sì, e quindi ci vediamo in piscina. Quindi solo ottime notizie per la città di Favara, ringraziamo nuovamente l'assessore Rossella Carlino e quindi che dirvi, ci vediamo tutti in piscina.